Come paesi siamo sopra la media della provincia in base a un algoritmo. Un'elevata incidenza di positivi sul totale della popolazione, numeri importanti che hanno spinto l'Urso 2 in accordo con i sindaci di Castelcucco e Cavaso a procedere ad uno screening di massa della popolazione. Sabato 5 e domenica 6 dicembre toccherà i cittadini di Castelcucco. Nelle prossime ore verrà decisa la complessa macchina organizzativa. La previsione è quella di riuscire a tamponare 2000 persone in due giorni, significa 100 persone ora e quindi lì bisogna andare via molto ben organizzati. Una settimana dopo saranno gli abitanti di Cavaso a sottoporsi ai tamponi rapidi. Chiamata per via si presenterà già con delle etichette che avremo consegnato noi del comune alle varie famiglie. Per via saranno chiamate, scavenzate ora dopo ora a presentarsi col sistema drive-in presso il parcheggio Bonotti. Entro mezz'ora coloro che risulteranno positivi verranno richiamati per sottoporsi al tampone molecolare. Allo screening sono chiamati a partecipare tutti gli abitanti dai sei anni in su, esclusi coloro che sono già stati colpiti dal covid. L'auspicio dei due sindaci è che i loro concittadini aderiscano in massa. Noi contiamo che il senso di responsabilità dei cittadini faccia sì che ci sia un'adesione globale. Sono fiducioso che la cittadinanza risponda in maniera massiccia perché è un'occasione proprio per invertire questa tendenza. Un aumento dei casi dovuto, spiegano i sindaci, anche i comportamenti dei cittadini non sempre del tutto rispettosi delle regole. Credo che ci siano state un paio di situazioni che hanno generato un po' questo aumento importante di contagi. Mi auguro che adesso la cittadinanza prenda in maniera più seria questo virus, questo momento, perché sono convinto che al momento un po' sia stato sottovalutato. Proprio per dare anche una scossa e fare in maniera che anche i cittadini che ormai conoscono bene le linee in guida abbiano come un sussulto e ci sia un allineamento ancora maggiore.